eccoci buonasera a tutti buonasera a tutti ok ecco stiamo cominciando a farlo con chi ci segue da casa che ci segue in sala che segue da youtube e da zoom e abbiamo cominciato con un attimo di ritardo ma abbiamo qui alberto che è riuscito ad arrivare insomma alberto nostro socio che ormai conosciamo da parecchi anni mai che si frequenta insomma e gli ultimi anni fa parte anche lui del gruppetto dei dei registi insomma che condividiamo questa avventura che abbiamo imparato qualcosa di nuovo grazie a queste contingenze di questi anni fa insomma questa sera ci parla di un argomento interessantissimo e vastissimo che la concezione dell'universo da aristotele a hubble giusto po di millenni di storia insomma che saranno riassunti da alberto al quale lascio la parola molto volentieri quindi buona serata a tutti ti lascio questo microfono vi saluto tutti e condivido condivido adesso lo schermo la presentazione ecco spero spero che si veda bene vediamo se riusciamo allora un argomento un argomento abbastanza vasto che trattato minora retta lo spero e che ha per titolo aumeni universis aldea perché perché questa era il titolo di una discussione che intorno al 1920 fu fatta e viene chiamato grande dibattito tra due astronomi tra i maggiori dell'epoca che in qualche modo dovevano dibattere e portare avanti al loro il loro punto di vista su come doveva intendersi l'universo da aristotele a hubble perché ripercorreremo un po tutta la storia diciamo dell'astronomia intesa come concezione dell'universo in maniera molto diciamo frettolosa se vogliamo però diciamo passando da un personaggio all'altro tra i più diciamo importanti della storia passo subito a una breve introduzione che poi quella che abbiamo pubblicato sui social questo proprio per inquadrare l'argomento la concezione dell'universo rimasta inalterata per secoli da aristotele fino alla metà del cinquecento si riteneva che la terra fosse il centro di tutto poi è arrivata la rivoluzione copernicana e è arrivato poi galileo quindi la rivoluzione scientifica e e quindi poi la visione dell'universo è cambiata progressivamente a mano a mano che poi i gli strumenti si sono affinati le osservazioni sempre maggiori e con sempre più conoscenza di oggetti che prima erano sconosciuti fino a che si arriva al novecento all'inizio del novecento ormai i scienziati e i filosofi anche perché non dobbiamo dimenticare che i filosofi ma anche nella storia dell'astronomia ha avuto una parte molto importante si susseguono proponendo visioni alternative dell'universo ognuno aveva la sua visione e in particolare c'era la diatriba delle nebulose all'epoca si parlava di nebulose non si parlava di galassie che per alcuni erano interne e per altri erano sterne alla via lattea è il 1920 esattamente un secolo fa più due anni è l'anno in cui appunto la comunità scientifica si interroga su quanti universi ci sono e si confrontano due visioni diverse pubblicamente in un dibattito acceso tra due grandi astronomi dell'epoca tutti e due americani Eber Curtis e Harlow Shapley finisce però in nulla di fatto sarà un avvocato con la passione dell'astronomia Edwin Hubble che risolverà la questione e scoprirà che la via lattea è una tra tante galassie tra le tante galassie dell'universo e che l'universo è estremamente più grande di quello che prima si pensava per fare questo però appunto partiamo dall'antichità e quindi appunto l'universo la concezione dell'universo è cambiata tantissimo nel corso della storia fino all'antichità l'uomo si chiedeva ma che 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 ruolo ho io qual è la natura e l'origine di ciò che mi circonda e qual è il posto il posto mio all'interno dell'universo e in che cosa consisteva l'universo fino al sesto secolo dopo cristo addirittura era comune la leggenda secondo cui la terra era un disco piatto che poggiava che fluttuava ma in realtà poggiava sopra una tartaruga e allora dice ma la tartaruga dove poggia è sopra un'altra tartaruga e via così questa era una leggenda ma era molto comune e fino al sesto secolo dopo cristo era quello che la gente comune pensava e quindi diciamo che nell'antichità l'interpretazione del cielo era governato dal mitos il mitos inteso come come religione gli dei cioè si credeva appunto che l'azione degli dei governasse il moto degli astri e quindi non c'era bisogno di dimostrazione fisica si dava per scontato che ci pensavano gli dei però l'immaginario collettivo si davano delle interpretazioni e già in india appunto nell'antichità diciamo che sto parlando di parecchi secoli prima che che arrivassero i primi i primi i primi studi da parte so di aristoteca siamo molto molto indietro nei secoli si trovano primi esempi di astrologia quindi cielo era già stato diviso nelle case dello zodiaco e i vari pianeti erano in qualche modo classificati in base a ogni pianeta veniva dato associato un certo carattere un certo temperamento esempio marte era guerriero ma non è nato in grecia o a roma questa cosa è nata prima le osservazioni del cielo notturno erano praticate sia in mesopotamia che in india in cina ma non c'era una concezione scientifica dell'universo l'osservazione del cielo non era affatto da tutti c'erano alcuni sapienti che osservavano il cielo e alcuni piano piano erano riusciti a costruire delle mappe e le mappe si erano rivelate utili sempre di più per spostarsi nel mare ma anche per terra e anche per regolare l'astronomia e la scusa dell'agricoltura e quindi non tutti erano in grado di discutere di squisire su su questi argomenti i babilonesi furono tra i primi a distinguere ad esempio che c'erano corpi celesti diversi cioè loro avevano capito che c'erano i pianeti e c'erano le stelle cioè avevano una brillantezza diversa quindi i pianeti come punti fermi e le stelle che oscillavano nella loro luminosità e ho capito che c'era una certa differenza però ovviamente all'epoca non si riusciva a dare una come dire interpretazione come noi siamo in grado di fare adesso e infatti i babilonesi tra i primi avevano ad esempio osservato questo movimento strano che alcuni pianeti hanno vedi ad esempio l'ondeggiamento apparente di marte e quindi le osservazioni stabilivano davano consentivano di stabilire una connessione tra cielo e mondo terreno quindi univano il mondo terreno il mondo trascendentale il mondo il mondo degli dei però aveva anche l'aspetto pratico perché consentivano appunto di disegnare mappe e consentivano di orientarsi e anche aveva una grande importanza per l'agricoltura appunto alcune tavolette che riportano osservazioni astronomiche ad esempio osservazioni di venere furono scoperte nel diciannovesimo secolo da austin la yard in mesopotamia austin la yard è lo scopritore dell'antica città di ninive e nelle sue nelle sue scoperte nelle sue di seppellì migliaia di tavolette in scrittura con i forme che riportavano dati di carattere astronomico ecco l'esempio della tavoletta di venere di ammissa duca una tavoletta dove sono registrati ovviamente non riusciamo a capirlo da questa foto ma sono registrate le date ad esempio di invisibilità del pianeta venere di visibilità e con esso erano associati aspetti legati un po la a presaggi di sventura quindi certi fenomeni che sono periodici e che quindi capitano capitano adesso e sono sempre stati sono sempre stati però erano visti come presaggi di sventura qui vediamo invece una delle prime rappresentazioni del cielo è il disco di nebra disco di nebra qui non si può dare un'adattazione precisa ma va dal 1600 a 2000 avanti cristo un disco in bronzo età del bronzo proprio con disegni con intarsi una sorta di intarsi in oro disco di nebra fu rinvenuto nel 1999 9 in germania si notano e si vedono sono evidenti il sole la luna è un gruppetto di sette stelle che molto probabilmente sono le pleiadi tutte le altre stelle sono poste solo per diciamo a livello estetico e mentre c'è una una mezza luna c'è la parte della luna ma c'è un semicerchio sulla destra ce n'era uno anche a sinistra e avevano e hanno una dimensione tale che rappresenta l'angolo con cui in quel certo posto dove è stata trovata questa questo disco praticamente era il tramonto e l'alba rispetto a una certa montagna della zona quindi la tavoletta aveva questa questa era stata in qualche modo progettata per questo aristotele la grecia il modello geocentrico allora da da una situazione nell'epoca precedente babilonia eccetera dove vigeva il mitos quindi praticamente la gli dèi erano erano presenti nella definizione dell'universo nella definizione di corpi celesti in grecia l'epoca le città delle città stato indipendenti fiorivano dibattiti culturali e il cielo universo in quell'epoca furono messi in discussione perché perché c'erano grandi dibattiti c'erano filosofi c'erano c'era c'era scienza e cultura e la cultura greca piano piano si aprì sempre di più a dubbio al dibattito quindi si sostituì al mitos e logos quindi la ragione la necessità di dare giustificazione concreta a alle cose un esempio fu a nassimandro non essi madre un filosofo un filosofo discepolo di talete fu il primo cartografo e il primo a diventare lo gnomone il gnomone è quella quell'asta che sta sulle sulle meridiane anche quella che serve a indicare l'ora nelle meridiane e il primo poi a comprendere che la terra galleggia nello spazio secondo nassimandro la terra galleggia non sta sopra una tartaruga nassimandro aveva un approccio scientifico aveva capito che la conoscenza non rimane ferma nel tempo e quindi bisogna sempre porsi le domande domande risposte e porre sempre dei dubbi e cercare sempre una 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 prova alle alle teorie passiamo al 340 avanti cristo epoca di aristotele aristotele nella sua opera de cielo ritiene che la terra sia il centro dell'universo sole luna e pianeti si muovono su sfere concentriche attorno ad essa e sullo sfondo le stelle fisse il sistema perfettamente stabile perché il concetto fondamentale del modello geocentrico era che era perfetto a tra l'altro se aristotele non si ferma qui lui porta anche delle motivazioni per sostenere il fatto che la terra non è piatta quindi non era un terrapiattista per lui le motivazioni sono queste pensate nel 340 avanti cristo lui aveva notato ma probabilmente l'aveva notato anche altri però lui ha fatto sintesi di queste cose durante l'eclissi di luna l'ombra della terra è sempre rotonda e mai di forma allungata e è stato proprio aristotele che si è reso conto che questo fenomeno fenomeno della dell'eclissi di luna era determinato dall'ombra della terra sul disco lunare quindi aveva fatto questo collegamento altra motivazione le stelle circompolari quelle che vediamo sempre tutto l'anno sopra la nostra testa appaiono sempre più basse in cielo quanto più ci si sposta verso sud e verso sud si vedono le stelle che non sono più visibili verso nord le regioni del nord e poi un'altra questione un'altra prova come mai di una nave all'orizzonte comparivano sempre prima le vele quindi si vede la razionalità del personaggio che ovviamente si scontra con l'interpretazione divina e comunque esoterica trascendentale che c'era prima la concezione aristotelica dell'universo diventa riferimento per tutti gli studiosi che verranno dopo fatta eccezione per aristarco di samo che mi fa piacere ricordare perché il primo che ha ipotizzato un sistema geocentrico non più geocentrico secondo aristarco di samo l'universo vedeva il sole al centro dei pianeti intorno esattamente il contrario però le sue idee e i suoi studi non andarono molto oltre anche perché almeno 400 anni dopo aristotele arrivò claudio tolomeo tolomeo era vissuto appunto visse in epoca romana imperiale ma era di cultura e lingua ellenica ecco lui certo momento penso non ci mise poco raccolse tutta la conoscenza astronomica e matematica nel mondo greco e si basò soprattutto sul lavoro svolto tre secoli prima dal parco di nicea che è uno dei più grandi astronomi astronomi dell'antichità dal suo studio studio matematico lui prende le idee di aristotele e le trasforma matematicamente cioè da una come dire dimostrazione matematica di qualcosa che era soltanto un'idea o una teoria quella di aristotele e quindi dimostra matematicamente che il modello geocentrico sta in piedi e lo descrive in questo trattato il trattato che sarà chiamato dagli arabi al magesto il magesto parola araba il grandissimo e dal magesto allora verrà poi tradotto e diffuso in europa ma tradotto dai manoscritti arabi perché il punto dal magesto era stato tradotto poi dagli arabi e quindi si era diffuso attraverso 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 gli arabi in europa viene tradotto appunto da manoscritti arabi vediamo un esempio di immagine di visione tolemaica dell'universo con la con la terra al centro la visione geocentrica dell'universo rimane quindi un riferimento per tutto il mondo cristiano fino alla metà del cinquecento quindi per oltre 1400 anni per 1400 anni non c'è stato nessuno che abbia sia stato in grado di confutare quanto scritto in quel testo punto di forza consentiva di predire abbastanza bene le posizioni di corpi celesti nel cielo matematicamente lui era riuscito a fare in modo che tutto combacciasse che tutto tornasse e quindi era utile sia in agricoltura che nei lunghi spostamenti il concetto era sempre quello l'astronomia l'utilità era sempre quella per l'agricoltura e per i movimenti nel modello tolemaico la terra è al centro ed è circondata qui vediamo da un'esemplificazione è circondata da otto sfere su cui si muovono appunto la luna mercurio venere il sole marte giove saturno e per ultime e per ultima la sfera delle stelle fisse fisse inamovibili immobili i pianeti si muovevano si può vedere il cerchio più piccolo in alto a sinistra su cerchi piccoli si muovevano sui cerchi piccoli quelli tratteggiati lì e chiamati epicicli in movimento sulle rispettive sfere e su orbite quelle più grandi chiamate deferenti e questa questa ipotesi questa spiegazione serviva per far capire e per comprendere le complesse traiettorie appunto di alcuni pianeti tra cui marte perché era questo movimento di marte che oscilla nel cielo non era spiegabile se non artificialmente con queste con questi artifici qua e veniamo alla rivoluzione copernicana siamo nel 1543 è l'anno della morte di copernico nell'anno della morte di copernico viene pubblicata la sua opera maggiore e rivoluzionaria che guarda caso chiama le rivoluzioni bus orbium celestium che però intende le rivoluzioni diverse cioè rivoluzione dei corpi celesti nel senso di rotazione intorno al sole in questo caso la visione dell'universo viene capovolta copernico introduce il modello eliocentrico il sole al centro di un sistema planetario circondato da lontanissime stelle fisse ancora stelle fisse già nel 1514 copernico aveva già proposto il modello però non si fidava di divulgarlo perché aveva lo faceva in forma anonima perché aveva paura di essere bollato come eretico ricordiamo che galileo verrà molto dopo e anche lui comunque avrà paura e avrà timore diciamo di sposare queste questa 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 nuova teoria si tratta di una vera e propria rivoluzione nella concezione dell'universo dopo 1400 anni della stesura del magesto non è più la terra ad essere al centro dell'universo cambia completamente si rovescia si rovescia la concezione dell'universo allora nonostante il modello non corrispondesse alle orbite osservate perché rispetto alla trattazione matematica di tolomeo in questo caso non c'era un supporto matematico che spiegasse tutto nonostante questo due tra i maggiori scienziati che poi apparvero successivamente si pronunciarono a favore della di questa teoria e parlo proprio di galileo valilei e giovanni che plero due grandissimi però facciamo un passo alla volta un aspetto interessante è che l'universo era sempre stato considerato di dimensioni finite qui torno un po a quello che stefano rizzato ci ha raccontato alcune settimane fa e quindi secondo il modello aristotelico ufficiale ma anche secondo la teoria copernicana le stelle appunto dovevano essere fisse immutabili e l'universo doveva avere un confine un astronomo e matematico inglese Thomas Dix che fu il più grande fautore della teoria copernicana in Inghilterra lui era un fautore della teoria copernicana è nato nel 1546 tre anni dopo che era morto Copernico quindi lui crescendo ha abbracciato subito questa teoria perché era era la teoria nuova quindi da giovane scienziato l'ha abbracciata subito quindi il più grande fautore di questa teoria in Inghilterra fu però il primo a rifiutare la concezione di un universo finito come ci ha raccontato Stefano e si convinse di questo dopo aver assistito all'apparizione nel novembre del 1572 della supernova SN 1572 all'epoca non era chiamata così ovviamente tra l'altro noi la chiamiamo supernova perché era una supernova di tipo 1A quelle che adesso servirebbero per fare anche per misurare le distanze astronomiche e lui era interpretata come una nuova le chiamavano nuove stelle perché sembravano che comparissero proprio non c'erano quindi sembrava che non ci fossero e il fatto che apparivano così luminose erano chiamate nuove e illuminò il cielo per diverse settimane e lui quando vide questo dice il cielo non è fisso qualcosa cambia quindi contrariamente a Copernico e a Genico, Magalileo e Keplero fu il primo a credere all'universo senza confini e passiamo al periodo tra il 600 e il 900 dove la cosmologia fa passi da gigante dove ci sono dei giganti che entrano in gioco e piano piano contribuiscono a costruire la cosmologia moderna quindi fino a tutto il 500 questo è un aspetto importante l'unico strumento per l'osservazione era l'occhio umano quindi tutte le mappe le osservazioni appunto fatte prima erano fatte soltanto perché c'era qualcuno che si metteva a osservare il cielo coi propri occhi da Galileo in poi con l'adozione del cannocchiale nel 1609 Galileo non lo inventò lo adottò perché era stato diciamo inventato da un olandese lui lo migliorò lo adottò e lo utilizzò nel 1609 inizia l'osservazione strumentale del cielo e qui cominciano si iniziano a scoprire i nuovi corpi celesti passare dagli occhi a un cannocchiale possiamo provare anche noi vediamo la differenza che fa qui vediamo un quadro molto famoso di Giuseppe Bertini dove a Venezia il 25 agosto 1609 Galileo presenta il cannocchiale al doge Leonardo Donati ma Galileo è importante perché allora intanto con l'introduzione del cannocchiale e con le osservazioni che lui fa viene si sconfessa ancora di più la teoria geocentrica osservando il pianeta Giove Galileo scopre dei piccoli satelliti che gli orbitano attorno ai satelliti medicei quindi non tutti i corpi celesti orbitavano attorno alla Terra assolutamente no quindi la teoria geocentrica a maggior ragione non ha senso di esistere Galileo poi sappiamo bene importante perché introduce il metodo sperimentale e fa iniziare la scienza moderna Giovanni Keplero viene dopo Giovanni Keplero scopre le tre leggi che governano il moto dei pianeti non le ripeto qua ma il moto dei pianeti attorno al Sole stabilendo che le orbite sono ellittiche questo tra 1609 e 1619 quindi sappiamo Galileo e Keplero sono contemporanei almeno per un po' fino all'ora le orbite planetarie erano considerate dei cerchi perfetti perché il mondo del sistema tolemaico aristotelico eccetera scusa l'universo era un universo perfetto perfetto dove tutto cerchi sfere stelle fisse la realtà è diversa e considerare che all'epoca definire le orbite ellittiche era uno sconvolgimento però Keplero ancora però una concezione divina sul motore dell'universo perché i pianeti girano si girano intorno al Sole su orbite ellittiche ma chi li fa muovere? il motore è divino le cause fisiche erano sconosciute ovviamente non ho citato la persona a cui lui deve molto Tico Brahe con le sue osservazioni dà modo a Keplero poi di lavorarci sopra e di tracciare le tre leggi che governano il moto dei pianeti il culmine della rivoluzione scientifica però è rappresentato dalla legge di gravitazione universale di Isaac Newton Isaac Newton fornisce una dimostrazione matematica delle leggi di Keplero questa è la relazione che lega le masse di due corpi a una costante di gravitazione che è quella che è la costante di gravitazione universale ed è che è inversamente proporzionale con il quadrato dalle distanze dei corpi Isaac Newton pubblica nel 1687 l'opera Filosofie Naturalis Principia Matematica introduce la meccanica classica e inventa il calcolo infinitesimale quindi anche lui un grandissimo della scienza ecco dal settecento all'ottocento vengono sviluppati i primi telescopi con i quali si scoprono massi stellari e nebulose e l'universo si amplia e si scoprono nuovi oggetti però per la maggior parte indefiniti, sfocati perché anche i primi telescopi dell'epoca non è che consentivano di vedere nitidamente le galassie o all'epoca le nebulose e quindi erano poco interessanti gli astronomi preferivano andare a caccia di comete perché erano i corpi in movimento oppure le stelle che si muovevano di modo proprio quindi seguivano quelle cose che in qualche modo si muovevano Charles Messier nel 1774 pubblica un catalogo con 110 oggetti li aveva visti tutti sfocati? però li aveva visti e li aveva catalogati e sono ancora oggi di riferimento 1755 molti di noi conoscono Immanuel Kant un filosofo anche io fino a qualche anno fa non sapevo che Kant avesse formulato una teoria una teoria degli universi isola e quindi lui aveva prefigurato aveva ipotizzato alcune cose sulla Via Lattea e le nebulose secondo Kant le stelle ruotano attorno al centro della Via Lattea quindi ecco che ci si sposta e l'orizzonte comincia ad andare oltre ai pianeti il sistema solare si comincia a guardare le stelle e a pensare come queste si muovono o sono posizionate all'interno della Via Lattea secondo Kant le stelle ruotano intorno al centro della Via Lattea come i pianeti ruotano intorno al Sole quindi lui gli dava una spiegazione anche abbastanza razionale e anche abbastanza di buon senso se vogliamo secondo lui la Via Lattea è una regione a grande distanza del Sole quindi noi siamo fuori la Via Lattea è più lontana cioè siamo distanti le nebulose sono sistemi stellari simili alla Via Lattea ma esterni ad essa quindi abbiamo sole esterno stelle che ruotano attorno al centro della Via Lattea nebulose che stanno fuori quindi non esattamente quella che è la realtà però diciamo che ci si stava avvicinando ci si stava avvicinando a quello che è effettivamente la realtà dell'universo William Herschel nel 1781 scopre il pianeta Urano che fino ad allora era considerato una stella da considerare che fino ad allora i pianeti non ce n'erano altri nel senso i pianeti fino a Saturno e poi basta non erano conosciuti altri pianeti da millenni nessuno sospettava l'esistenza di altri pianeti Herschel immagina la forma della Via Lattea e la forma secondo Herschel è una forma a macina di amulino ovviamente all'epoca c'erano apprezzi c'erano oggetti molto semplici quindi se dovevo dare la forma oggi probabilmente potremmo dire qualcosa di diverso però lui dalle sue osservazioni tra l'altro ipotizza che sia lunga 7000 anni luce larga 1300 stiamo già parlando di anni luce perché la velocità della luce e la costanza della velocità della luce era già stata scoperta e e quindi in qualche modo si era definita una velocità che magari non era quella quella esatta di oggi però sulla base di quel valore lui aveva calcolato le dimensioni della Via Lattea aveva fatto un meticoloso meticoloso conteggio di stelle quindi dividendo il cielo in quadranti lui meticolosamente si era contato le stelle nel senso in maniera molto spannometrica e quindi arriva a stimare che la Via Lattea contenga oltre 300 milioni di stelle e diciamo che era molto lontano di diversi ordini di grandezza però già cominciamo ad andare verso un'interpretazione sempre più vicina a quella attuale nel 1838 Friedrich Bessel è il primo a utilizzare il metodo della parallasse stellare per il calcolo di distanze astronomiche non l'ha inventato lui però è stato il primo a utilizzarlo per misurare una stella che verrà chiamata poi stella di Bessel la stella 61 Cigni appunto costellazione del Cigno non una delle più grandi e mi pare anche una stella doppia tra l'altro questo metodo è fondamentale importanza per lo sviluppo dell'astronomia perché consente appunto di misurare le distanze delle stelle almeno delle stelle più vicine all'epoca ottiene un valore di circa 3,2 parsec molto vicino a quello oggi conosciuto di 3,5 questa stella dici perché quella stella lì perché come dicevo prima gli astronomi erano molto interessati ai corpi celesti in movimento e questa stella qui avevano elevato molto proprio l'avevano visto che aveva un suo movimento percorreva una certa traiettoria fino allora non c'era altra tecnica per misurare la distanza delle stelle quindi la parallasse stellare è stato il primo metodo per calcolare la distanza delle stelle ovviamente delle stelle vicine perché sappiamo che più lontano si va e più l'angolo diventa talmente stretto che è praticamente poi impossibile avere una distanza ben precisa nel 1845 l'irlandese William Parsons Lord Ross un riccone un signore osserva per la prima volta una lebulosa spirale M51 la galassia a vortice col suo telescopio Lediatan da 183 cm era un telescopio che all'epoca è il più grande del mondo lo vediamo nel disegno e ne abbiamo visto anche in tante altre presentazioni in passato una costruzione enorme e questo era il suo telescopio da notare Lediatan di Parsonstown quindi diciamo che questo signore irlandese era un benestante per così dire William Huggins nel 1864 sviluppa un telescopio spettrografo la spettrografia era in quegli anni lì già conosciuta sviluppata fin dai tempi di Fraunhofer e ottiene il primo spettro di Andromeda M31 che riconosce essere di tipo stellare perché che è di tipo stellare perché è un spettro continuo con bande scure bande scure definiscono i vari elementi chimici presenti sulla superficie della stella e qui abbiamo un disegno di uno dei primi spettroscopi questo del 1868 quindi negli anni in cui in cui lavorò William Huggins qui vediamo le linee spettrali fotografate da Huggins quindi si iniziava a usare la fotografia Huggins cataloga le linee spettrali di monte e sostanze e la composizione spettrale del sole di numerose stelle e nebulose quindi cominciamo a fare spettrografia stellare 1901 siamo entrati nel 1900 l'olandese Jakobus Kaptein esegue un conteggio di stelle un po' tipo quello che aveva fatto Herschel solo che invece di contarle ad occhio o comunque diciamo basandosi sulla sua osservazione lui usa la fotografia e quindi attraverso lastre fotografiche conta le stelle e calcola le dimensioni della Via Lattea siamo già a 30.000 anni luce con uno spessore di 6.500 quindi diciamo c'è ancora un po' di approssimazione no? però anche qui ci stiamo avvicinando sempre di più alle dimensioni reali e alla struttura reale della Via Lattea il sole lo vede a circa 2.000 anni luce dal centro quindi lo vede molto vicino al centro e quindi e questo passa alla storia come universo di Kaptein se voi andate alla ricerca universo di Kaptein trovate qualcosa questo è un disegno sì, dell'epoca dell'universo di Kaptein dove si vede sulle scisse le dimensioni in parsecs Kaptein dimostra l'esistenza di un centro rotazionale galattico e scopre che la densità delle stelle diminuisce spostandosi dal centro alla periferia Siamo quindi all'inizio del ventesimo secolo ma c'erano ancora molti dubbi sulla struttura dell'universo l'abbiamo capito perché l'abbiamo visto no? Ancora non si aveva un'accurata conoscenza poi delle distanze astronomiche erano un po' buttate là no? eccetto per il metodo della parallasse non esistevano altri metodi per misurare le distanze in particolare per le distanze vicine stelle vicine si potevano misurare con il metodo della parallasse perché alle lontane non c'era un metodo e c'erano alcune questioni che dividevano gli astronomi le nebulose sono nubi di gas o sistemi stellari? Se ricordate Kant diceva che sono sistemi stellari però c'erano quelli che erano convinti che invece fossero nubi di gas d'altronde a vederle era più facile pensare che fossero nubi di gas non potendo avere una grande definizione dei sistemi o comunque dei telescopi potenti le nebulose sono interne o esterne alla Via Lattea? Se interne la Via Lattea rappresenta l'intero universo o c'è qualcosa di fuori della Via Lattea? Cioè all'inizio del Novecento quello che si conosceva era che c'era la Via Lattea e c'erano dubbi in sostanza e c'erano dubbi se le nebulose erano dentro o fuori quindi alcuni astronomi infatti concordavano con le tesi di Kant sugli universi isola composti da stelle e poi rimanevano contrasti sulle altre due questioni che abbiamo detto ad esempio alcuni ritenevano che Andromeda fosse interna alla Via Lattea altri che fossero esterne molti si erano puntati molto su Andromeda perché essendo una galassia molto grande noi sappiamo che è una galassia all'epoca era una nebulosa molto grande e quindi la diatriba era mai dentro e fuori quindi si erano molto concentrati su questo quindi vediamo una foto del 1899 della nebulosa di Andromeda all'epoca nebulosa 1920 Harlow Shapley del Mount Wilson Observatory era il capofila di un gruppo di astronomi che riteneva che tutto quello che si osservava facesse parte della nostra galassia e che quindi la Via Latte fosse l'intero universo d'altra parte lui aveva misurato la galassia aveva fatto anche lui le sue stime e la vedeva eccezionalmente più grande degli altri aveva studiato un gran numero di ammassi globulari che contenevano un gran numero di variabili cefeidi e allora le cefeidi erano variabili che consentivano di misurare anche la distanza però questo verrà dopo e lui aveva individuato un gran numero di ammassi globulari concentrati in una certa direzione quindi ipotizzò che il sistema solare si trovasse in una posizione periferica ma che la Via Lattea, come dicevo prima, avesse un diametro molto grande rispetto a quello che avevano detto tutti gli altri prima addirittura 300.000 anni luce con il Sole 50.000 anni luce dal centro vedete che qua non ne sono più ordini di grandezza di errore perché se da 300.000 passare a 100.000 è una delle altre volte più piccole la realtà però non è che sta facendo 10 volte più grande il Sole 50.000 anni luce in realtà 25.000, 26.000 adesso quindi non è che c'era proprio tanto distante però lui pensava proprio perché l'aveva vista la Via Lattea così grande che tutto l'universo fosse contenuto lì dall'altra parte c'era Hebert Curtis del Leak Observatory si opponeva alla visione tradizionale lui aveva fatto misure di magnitudine parente e aveva scoperto che in alcuni oggetti all'interno di Andromeda erano 10 volte più deboli di oggetti simili presenti nella Via Lattea e quindi lui dice se sono simili e sono più deboli la galassia di Andromeda la galassia nebulosa di Andromeda sarà molto più lontana e quindi lui dice ne consegue che M31 è fuori dalla nostra galassia Curtis riteneva che la Via Lattea fosse dimensioni contenute col sistema solare al centro e fuori a istanze enormi le altre galassie per esempio M31 ad almeno 500.000 anni luce quindi da una parte lui qua aveva ragione perché M31 è fuori dalla Via Lattea dall'altra però le dimensioni erano erano sbagliate ma erano più sbagliate le sue di quelle di Sheppley quindi non c'era nessuno di due che avesse proprio centrato e avesse ragione questa diatriba tra la visione di Sheppley e quella di Curtis sfocia in una discussione pubblica il 26 aprile 1920 102 anni fa all'interno dello Smithsonian Museum of Washington sede della National Academy of Science e come vedete là sopra fu intitolata «How many universes are there?» e vedete che vengono presentati quello è proprio il bollettino su cui si presenta la discussione la discussione pubblica, dibattito e quindi si citano appunto di Carlo Sheppley si vede anche il Dr. Herbert Curtis e questa discussione è stata una discussione molto molto importante trovate moltissimo in internet su questo dibattito e questa discussione appunto dal titolo «How many universes are there?» passò alla storia come il grande dibattito del Great Debate ma non decretò né vincitori né vinti nessuna delle due tesi prevalse e entrambe fessero discutere ancora a lungo si è scelto che Curtis sbagliavano su alcune cose mentre su altre avevano ragione servivano delle prove per risolvere la diatriba ed ecco che entra in scena Edwin Hubble un giovane avvocato con la passione dell'astronomia Edwin Powell Hubble era uno sportivo di un buon livello già lui era uno proprio che faceva calcio faceva salto in alto eccelleva in tutto eccelleva anche nello studio studia legge per volere del padre ma lui era appassionato di astronomia aveva anche studiato astronomia si laurea all'Università di Chicago e poi va tre anni in Inghilterra e si laurea al Queen's College di Oxford nel 1913 sempre in legge quindi questo per volere del padre torna negli Stati Uniti rinuncia al tirocinio in tribunale per inciso partecipa anche alla Primavera Mondiale e avrebbe possibilità di fare appunto il tirocinio in tribunale nel Kentucky rinuncia tanto il padre è mancato e lui si sente libero e torna a studiare astronomia e si laurea all'Università di Chicago in pochi pochissimi anni eh nel 1919 Hubble viene assunto al Mount Wilson Observatory che era quello che avevamo visto di Shapley in California dove è stato appena costruito il telescopio progno del mondo il telescopio Hooker lo vedete là diametro di due metri e mezzo cento pollici quindi con una capacità e una potenzialità che lui non si lascia sfuggire Hubble identifica all'interno delle nebulose più vicine alcune stelle variabili della classe delle cefeidi le trova 12 le M31 22 nella galassietta vicino ad Andromeda M33 che gli consentono di stimare la distanza metodo delle cefeidi cos'è il metodo delle cefeidi? la distanza si ottiene combinando la luminosità apparente cioè quella che vediamo noi con il periodo di variabilità della cefeide lui applica il metodo che era stato scoperto pochissimi anni prima da Henrietta Leavitt quindi Hubble ha avuto anche un po' di fortuna se vogliamo un telescopio dalla Madonna un metodo che era appena stato scoperto quindi bastava soltanto mettersi lì a fare osservazioni metodo delle cefeidi di Henrietta Swan Leavitt una donna computer le donne all'epoca non potevano diventare astronome era difficile il mondo maschile lo sappiamo anche negli anni sessanta abbiamo visto ancora negli anni sessanta si usavano le donne per fare i calcoli e lei era una donna computer all'epoca si chiamava proprio così donna computer perché in inglese vuol dire calcolare calcolatore donna calcolatrice perché facevano calcoli facevano calcoli e facevano soprattutto tante osservazioni e mappe e valutazioni eccetera continuamente continuamente e lei si accorge che determinate variabili sono in qualche modo costanti cioè alla variabilità è associata una certa luminosità qui si vede l'originale del foglio su cui Hubble ha riportato le variazioni di magnitudine nella variabile v1 in astromeda che ha una periodo di variabilità di 31 giorni e 4 se uno si mette lì adesso non si vede bene ma si potrebbero contare i giorni su quel grafichetto fatto a mano da Hubble e tra l'altro se voi vedete soprattutto su quella beh su questa di destra che fosse il negativo anzi no è negativo l'altro questa quella di destra dove c'è scritto var c'è scritto var in alto a destra con un punto esclamativo e sopra c'era una n con una x sopra è una stella che lui inizialmente aveva interpretato come una nova e che dopo si è accorto che era una variabile e che quella una di quelle che gli ha consentito di misurare la distanza di quella variabile e con quella misurare la distanza di Andromeda qui si vede si può vedere che dove c'è la foto di Andromeda la parte quella il rettangolo verticale è quello sulla destra ma poi c'è un rettangolino dove c'è la variabile che è quello che si vede in alto a destra quindi aspetta che io mi sono perso però volevo tornare indietro qua il fatto che alcune lebulose contenessero oggetti stellari era una prova che esse non erano semplici contenitori di gas e plasma e quindi già questo che arriva già una parte del problema la fine del grande dibattito una nuova concezione dell'universo le osservazioni condotte tra il 1923 e il 1924 vi ricordate il dibattito del 1920 solo 3-4 anni dopo le osservazioni condotte da Hubble permettono di stimare la distanza di Andromeda dal sistema solare ottenendo un valore di 900.000 anni luce non è quello che conosciamo noi 2 milioni e mezzo di anni luce però perché avrà sbagliato Walter Baden nel 1943 scoprirà che ci sono due tipi di cefeidi anche là tipo 1 tipo 2 Hubble si era basato su quelle tipo 1 ma i calcoli della Leavitt riguardavano quelle di tipo 2 che erano più vecchie e meno luminose e quindi lui aveva ovviamente sbagliato le misure c'era un problema di calibrazione se vogliamo aveva interpretato una cefeide un tipo di cefeide per l'altro però questo lo si saprà solo nel 1943 e solo nel 1943 si capirà che Andromeda non è 900.000 anni luce da noi ma 2 milioni e mezzo di anni luce ricalibrando le misure le distanze di Andromeda risultò essere di 2 milioni e mezzo di anni luce in ogni caso il valore che aveva stimato Hubble anche se erano 900.000 anni luce provava che Andromeda era senza dubbio al di fuori della nostra galassia al di fuori della Via Lattea perché anche tenendo in considerazione quella che era l'ipotesi di Sheppley di 300.000 anni luce di come dimensione della Via Lattea qui siamo a 900.000 e quindi era comunque la nebulosa era al di fuori era al di fuori dalla Via Lattea e quindi aveva scoperto che si trattava di nebulosa erano sistemi stellari e che erano fuori dalla nostra galassia questa scoperta cambiava definitivamente la precedente concezione dell'universo e poneva fine al grande dibattito del 1920 quindi nell'arco di tre anni grazie al potente telescopio al metodo che aveva scoperto Henrietta Leavitt qualche anno prima Hubble porta a caso un successo enorme quindi era la prova che l'universo si estede oltre i confini della Via Lattea questo era solo l'inizio di un processo di cambiamento nelle conoscenze della struttura dell'universo e delle sue origini e che vedrà ancora Hubble tra i massimi protagonisti questo sarà l'argomento della prossima settimana ecco appunto non si può non ricordare che in onore di Hubble il primo telescopio spaziale porta il suo nome lanciato nel 1990 tutt'ora operativo l'HST eccolo qua è ancora operativo anche se c'è James Webb Telescope lui fa comunque la sua discreta figura perché è un telescopio ottico portentoso e per finire Alan Sandage che era un grande collaboratore di Hubble visse molto più cioè visse molto tempo dopo che era e lavorò molto tempo dopo che era morto Hubble la domanda che cosa sono le galassie rispose prima del 1900 nessuno ne sapeva niente nel 1920 ne erano le correnti ben pochi dopo il 1924 non c'era più un solo astronomo che non lo sapesse grazie e arrivederci nel prossimo incontro dove parleremo ancora di Hubble e di molte altre persone personaggi della scienza spero che non sia stata troppo troppo pesante curiosa vediamo se tolgo un attimo la potrei parlare altre due ore ti ascoltavamo eh troppo gentile troppo gentile eh no ma lì ce ne sarebbe stato da dire eh eh ho letto tantissime cose e sai com'è il detto no? studiare 100 per raccontare 10 no? sì ma ce ne sarebbero state da dire tante tante eh però devo dire che è una sono argomenti molto appassionanti sì è stato interessantissimo eh quindi poi ti viene voglia di condividerlo con gli altri no? io mentre parlavi mi sono ho fatto una considerazione sulla grandezza di Kepler perché quando ha detto che le orbite dei pianeti sono ellittiche se uno guarda per esempio l'orbita della Terra è praticamente circolare ah sì ha una eccentricità quasi uno quindi veramente bravo eh sì eh sì ma perché anche lì si andava a scardinare il concetto della perfezione dei cerchi delle sfere certo e della sì della perfezione divina no? eh anche lui era come dire assillato dal dal problema eh sì della chiesa che pervadeva ogni ambito scientifico eh sì eh comunque grazie prego prego ci hai fatto passare una bella serata quindi grazie interessante sì sì no beh fortunatamente sono riuscito ad arrivare in tempo perché me l'avevo vista brutta visto che avevo avuto un problema con la macchina e quindi rischiavo proprio di non essere qua però ci sarebbe avuto e pensato il buon Tiziano che volendo ne ha di argomenti eh sì ma infatti Tiziano è stato meglio così ma è un po' che non parli Tiziano ti stai preparando? stai studiando? no eh sì sono un po' impegnato su altri su altri fronti purtroppo non si può far tutto insomma devo un po' concentrarmi ancora in ballo il progetto con i libri di geologia con il CAI insomma devo concentrarmi un po' lì beh eventualmente se c'è uno spazio ci puoi sempre raccontare qualcosa della geologia del Veneto no? sì infatti sì sì questo volentieri lina ne hai sì sì avresti da raccontare vuoi dire che sul Veneto sai più di quello che sei sulla Luna? ma non lo so forse sì ma dalla NASA per sapere qualcosa sulla Luna non ti hanno chiamato mai? no no mi è ancora capitato prima o poi capita forse il fatto che il Veneto lui l'ha percorso a piedi lungo e largo e la Luna ancora eh la Luna ancora no però insomma vabbè ancora sulla Luna tantissimi sono convinti che quell'orma famosissima è di Amazon che non è vero è dell'altra esatto esatto insomma eh sì va bene che ora abbiamo fatto? grande grande insomma dai oh no no giustissimo giustissimo non scherzi tenendo conto che abbiamo cominciato anche un po' tardi ora è perfetto perfetto bene dai no no aspetta ti tengo un attimo anche su YouTube se ci sono domande insomma aspetta che ho Italo Vedovato qua ma la domanda è molto semplice ma nemmeno più ricerche hai visto quando aspetta aspetta che do il microfono arrivo subito eccomi qua si sente? sì hai visto Alberto nelle tue ricerche qual'è stata? si sente? si si mi sento benissimo hai visto quale era la condizione delle concezioni universo nel mondo occidentale? ma chiaramente il mondo occidentale è condizionato dalla chiesa ma nel mondo indiano nel mondo cinese nel mondo inca nei pelle rossi americani che idee avevano? che idee giravano? bisognerebbe allargare gli studi bravo questa mi sembra un'ottima cosa seconda cosa ecco vedi però nell'antichità qualcosa avevo letto inizialmente qualche riferimento l'avevo messo perché non potevo allargarmi tanto però ho letto un testo che è molto interessante lo consiglierò adesso non riesco a pronunciare il nome dell'autore perché è un'autrice indiana che lavora in America ed è un'astronoma della Yale University quindi è una persona ovviamente super esperta e soprattutto anche grande divulgatrice però ha un nome che è impronunciabile cioè non me lo ricordo quindi vi darò i riferimenti perché è un testo molto molto piacevole e che ha un sacco di aneddoti e essendo lei indiana ogni tanto c'è qualche riferimento all'Oriente certo se è così interessante lo potremmo anche comprare come gruppo astrofili e metterlo in biblioteca sì perché è un libro recente recente del 2016 quindi insomma certe cose sono assolutamente attuali perché parla della materia oscura parla della vita degli esopianeti quindi la possibilità di vita quindi molto interessante molto interessante parla di queste cose non è stato l'unico testo perché Margherita Hack Stephen Hawking un testo di Massimo Riva che consiglio anche quello magari riporterò i riferimenti perché così chi vuole poi si può documentare seconda considerazione hai accennato a Keplero che parlava della sua virtù motrice che faceva girare i pianeti attorno al sole però a me è impressionata ancora di più la scelta di Newton il quale in un periodo ancora dove andavano di moda le streghe dice che il sistema solare è governato da una cosa che lui chiama gravità ma non si vede e non si sente e questo per un uomo per Newton avrebbe stato qualcosa di impressionante visto che pensava di essere l'ultimo dei profeti aveva a casa 60 Bibbie e le confrontava infatti perché il problema è si è spostato sul motore il motore era divino le osservazioni erano assolutamente scientifiche quindi la descrizione il problema era il motore cioè chi fa muovere la gravità c'è ma chi è che ha inventato la gravità qualcuno ha pensato anche a un effetto magnetico forse il campo magnetico addirittura poi si arrivò a pensare quindi è veramente strano come uno scienziato così deterministico quindi è la massima espressione del pensiero scientifico che però aveva di per sé il peso della della religione sulla testa comunque ottimo aspetta il ricordare che Newton è una cosa che hanno detto molti no non considerava non aveva considerato la gravità la gravità della gravità nel senso se tutti i pianeti se la gravità è solo attrattiva e tutti i pianeti girano intorno in qualche modo prima o poi devono cozzare l'uno contro l'altro e quindi è nata una diatriba anche con mi ricordo con un suo discepolo che portò avanti questi studi non mi ricordo il nome però è un suo discepolo che poi divenne capo rettore nell'università dove era lui Comunque su questo tema c'è un bellissimo libro di Coester che si chiama I sonnambuli e descrive appunto il periodo storico di Capelo come nel fatto che questi signori si muovevano nelle conoscenze dell'universo come un sonnambulo si muove di notte dormendo ma e ha gli occhi chiusi cammina e scopre qualcosa eh sì complimenti per la tua chiacchierata grazie 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 mille passo il tutto a check out allora intanto complimenti per il ripasso io lo chiamo così eh sì non è che siano cose nuove eh certamente da d'astrofo lungo da tanti anni sai ma serviva anche a me no sia sui libri che anche qui nel nostro gruppo insomma sono cose che abbiamo già sentito dire insomma ecco e complimenti per la lezione finché tu parlavi così è quello che io ho pensato dai tutti i personaggi che hai citato no? chi con i loro sbagli chi che lo sapeva ma non potevano perché la chiesa altrimenti tagliavano le gambe eccetera eccetera tra cui anche il grandissimo Giordano Bruno assolutamente ecco che anche lui eh aveva aveva capito in una sua frase che lui ha detto che c'erano secondo lui ci sono altri mondi ah sì ecco è per questo come tutti sappiamo e a Roma è stato è stato bruciato vivo insomma ecco 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 quello che stavo pensando che ti dicevo no? che tutti quanti con i loro sbagli e tutto quanto però hanno portato a conoscenza quello che sappiamo oggi a scalare ok? e quello che mi fa rabbia no? è che oggi sappiamo tutto o quasi tutto pensiamo di sapere tutto no? ci sono delle persone che fanno delle dimostrazioni addirittura in piazza come noi con la mostra così a convincere la gente che la terra è piatta sì sì i detti terra piattisti allora quando sento anche per la tv queste cose qua qua mi viene da pensare che aveva ragione Galileo Galilei nel 1608-1609 che ha detto la scienza non vuole chiudere le porte all'infinito sapere ma porre una barriera all'infinita ignoranza è vero e quindi si vede che queste persone qua all'epoca c'erano già comunque grazie sai grazie a te nel fatto di ricordare che ad esempio nel testo di questa astronoma indiana che ho letto quando si parla del della vita in altri mondi la vita extraterrestre e quindi la scoperta degli esopianeti eccetera dedica un capitoletto su questa cosa cita proprio Giordano Bruno quindi lei è un'astronoma indiana che lavora alla Yale University però è così come dire ferrata così approfondita nella sua descrizione che parla anche di questo tra l'altro quando tu mi hai citato anche hai citato Galileo Galilei e anche la se ci pensiamo bene in questa zona nostra qui Padova Venezia fa parte proprio della storia dell'astronomia perché l'astronomia è nata a Padova diciamo ecco come hai detto te Galileo Galilei aveva sentito dire che in Olanda è stato costruito questo piccolo telescopio con delle lenti di occhiali però quell'occhialaio lì non aveva mai buttato questo cannocchiale in cielo ecco anche la una dimostrazione che la terra che Galileo Galilei ha convinto Leonardo Donato il Doge a salire sul campanile all'epoca perché non è questo che c'è adesso sapete che è andato giù nel 1912 e adesso non è l'originale praticamente e per far vedere in lontananza le navi che si avvicinavano e non è cosa da poco e quindi ha fatto vedere proprio che in lontananza quindi era importante per l'epoca assolutamente noi qui parlavamo di astronomia ma l'importanza del cannocchiale l'hanno capita subito quanto era importante dal punto di vista strategico anche dal punto di vista militare dal punto di vista quindi noi siamo anche molto fortunati a vivere in questa zona qui dove Galileo Galilei sicuramente sarà passato anche di qua al mio paese c'è Villa Segredo non so se l'avete mai sentito dove c'era Giovanni Francesco Sagredo molto amico di Galileo Galilei e quindi ci sono proprio delle storie che anche questo Giovanni Francesco Sagredo ha messo delle sue idee praticamente su delle cose a Galileo è bello sapere queste cose qua insomma in tutto il mondo si sa che l'astronomia è nata a Padova tra Padova e Venezia ecco è una soddisfazione anche per noi astrofili grazie scusami beh non per niente abbiamo dato questo nome al nostro circolo e quindi bene grazie Moreno grazie Moreno sarà molto più difficile la seconda parte molto più complessa e probabilmente anche più lunga perché il presidente ha detto eh no non puoi farla tre volte no e allora ho detto ecco la la comprimeremo però forse un po' più lunghetta e quella lì sarà sicuramente più soggetta sì e anche più soggetta a discussioni e più comporterà sicuramente più più domande più interrogativi quando la fai la seconda parte per donare l'ignoranza eh la settimana prossima ah giovedì prossimo va bene allora ci vediamo giovedì prossimo ci vediamo eh non so se ci sia qualcuno su youtube ho controllato non c'è possiamo chiudere allora sì magari possiamo chiudere non l'hai già chiuso no? no 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 devi chiudere dalla da quale o chiudere? no 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 ah scusa ah no dai da salutiamo gli amici di youtube tutti eh sì salutiamo gli amici di youtube ci hai seguito grazie anche per questo alla prossima e grazie scusate il ritardo con cui siamo partiti